Quest'anno appunto mi hanno riconfermato all'interno del Consiglio come Vicepresidente. Dopo otto anni di segretario tesoriere sto cercando di dare anche questa volta il mio contributo a FIAIP per crescere, per continuare quella nostra linea di miglioramento professionale nella categoria dei agenti immobiliari. Gli agenti immobiliari finalmente dopo anni sono riusciti a crescere, a diventare professionisti. Per la crescita ovviamente serve sempre la formazione. Oggi abbiamo fatto un corso con Sarzano, un grande motivatore e come lui abbiamo degli accordi con diverse persone che ci danno sempre slancio e riescono a darci aggiornamenti su tutto quello che sono le novità fiscali, le novità ovviamente inerenti al nostro ambito. Io personalmente ho avuto la delega anche di consigliere appunto come delegato del contratto nazionale di lavoro. Abbiamo un contratto collettivo che è stato siglato nel giugno del 2021 tramite appunto l'ente bilaterale EBNAIP che ci distingue da altre appunto associazioni perché appunto abbiamo raggiunto un accordo con i sindacati dove abbiamo la possibilità di erogare ai nostri dipendenti un contratto con cui possono appunto aderire e avere delle cose molto interessanti. Abbiamo la possibilità dello sgravo fiscale per chi assume under 36, c'è la possibilità di fare appunto un'assicurazione integrativa nel contratto con 12 euro mensili che dà la possibilità di avere un recupero anche del ticket sia a carico del dipendente che a carico del datore di lavoro. La possibilità di spalmare la 14esima, la possibilità del nuovo contratto che dà la mediazione come provvigione al dipendente, quindi un fisso più provvigione, è la prima volta che è stato inserito in un contratto di lavoro, quindi adesso naturalmente con tutti questi aggiornamenti è consigliabile dare questa informazione al proprio consulente del lavoro in modo che possa appunto inserire questo tipo di contratto rispetto al classico contratto del terziario. Comunque faremo poi su questo argomento un incontro, un seminario dove parteciperà anche probabilmente Luca Ronca che è il nostro vicepresidente nazionale che ci darà delle ulteriori informazioni in tal senso. Detto questo voglio dire appunto che il nuovo consiglio si sta muovendo molto sulla formazione, siamo contenti del rinnovo di tutte le quote nella provincia di Varese, abbiamo una bellissima novità, il nostro presidente provinciale che è diventato presidente regionale, quindi continuiamo appunto a seguire i corsi FIAIP, vi raccomando, e grazie appunto per tutti quelli che ci danno una spinta. Noi siamo a disposizione poi per qualsiasi cosa, avete i numeri o comunque gli estremi della segreteria e del presidente Riccardo Ortiz.